Buongiorno a tutti, il comune di Bassano del Grappa ha attivato il cellulare 36693950886 per la fornitura di pasti e farmaci a persone fragili e ad anziani. Il numero è attivo dalle ore 9 alle ore 17.30. Già da ieri sono arrivate una trentina di telefonate e abbiamo risposto a tutte le richieste. È importante chiamare il numero di telefono attivato per i pasti, per i farmaci e per la spesa. Per tutte le altre informazioni di cui avete bisogno è importante chiamare invece l'URP al numero 0424 519 555. Attenzione, è importante che sappiate che siete voi che dovete chiamare il numero attivo. Non verrete mai contattati da qualcuno del comune, quindi bisogna stare attenti ai possibili malintenzionati o alle truffe. Se qualcuno vi chiama, chiamate subito le forze dell'ordine.